Ciao a tutti! Oggi sono qua per consigliarvi dei libri fumetti bellissimi da regalare o farvi regalare per questo Natale. Sta vicino alla fine dell'anno e quindi ho fatto una sorta di lista delle migliori letture che ho fatto quest'anno. Non sono tutti libri fumetti necessariamente usciti nel 2021, però sicuramente sono libri fumetti che non vi ho consigliato l'anno scorso per Natale. Quindi spero di cuore di darvi qualche spunto interessante, ma prima come al solito vi ricordo che se volete sostenere il canale potete farli iscrivendovi, mettendo mi piace a questo video e commentando qua sotto. Potete anche offrirmi una simbolica tazza di cioccolata calda con panno montata attraverso coffee, il link è qua sotto in descrizione, così come in tutte le descrizioni video trovate anche i miei codici sconto da affiliata e i miei link da affiliata attraverso cui potete acquistare quello che più volete e una percentuale va a sostenermi, quindi io vi ringrazio davvero di cuore. Partiamo subito perché i titoli sono veramente tanti. Iniziamo con le ricette della signora Tokue. Didurian Sukegawa vede per protagonista un pasticcere che in realtà non ama fare il suo mestiere. Si ritrova a fare i dorayaki che sono tipo dei pancake farciti con una composta di fagioli rossi perché semplicemente deve ripagare dei debiti, non ha alcuna passione in questo mestiere. Un giorno decide di assumere una nuova persona che gli dia una mano in negozio e si imbatte nella signora Tokue, un'anziana signora che in realtà di passione per la pasticceria ne ha tanta e che gli insegnerà in un certo senso a rimettere tutto in prospettiva, a capire quali sono le cose veramente importanti della vita e a ritrovare appunto la passione. È una storia che parte in maniera molto tranquilla e quotidiana, descrivendo un po' il lavoro, entrando a volte anche nei dettagli con quel modo tipico dei giapponesi, ma poi man mano che si va avanti la storia diventa più intensa, personale, intima e struggente. Si vanno a trattare temi molto delicati come ad esempio la malattia, affrontando anche un periodo che ha colpito non soltanto il Giappone, ma di cui si parla veramente molto poco. È la lettura perfetta secondo me per chi cerca una coccola, una lettura che può sembrare leggera, ma sicuramente non è frivola e spensierata. Una sorta di favola moderna sull'amicizia, la libertà e sul ritrovare, tra virgolette, il senso di quello che si sta facendo nella vita di tutti i giorni. Una lettura perfetta per grandi, ma anche per i più giovani, che io personalmente regalerei a tutti i miei amici, è Stargazing di Jen Wang. È una bellissima storia di amicizia che vede per protagoniste due ragazze che non potrebbero essere più diverse. Christine ha una famiglia molto tradizionalista, che la spinge quindi a coltivare degli interessi, degli hobby, a concentrarsi sullo studio, perché è molto importante per il suo futuro. Al contrario, invece, la madre di Moon permette alla ragazza di viversi un'adolescenza più spensierata, come un'americana qualunque. Forse proprio grazie a questa diversità, le due diventano amiche. Non è però la classica storia di crescita e formazione, del periodo di transizione, diciamo, dall'infanzia alla vera e propria adolescenza. Di nuovo, è una storia che più avanti assume un significato sempre più profondo. Va a raccontare proprio una cosa successa in prima persona all'autrice, e secondo me questa verità si percepisce ad ogni pagina. Come vi dicevo, è una lettura perfetta non soltanto per chi è già grande, ma anche per i giovani lettori. Consiglierei poi Galatea di Madeleine Miller, autrice molto conosciuta per la canzone di Achille e Circe, che qui torna con un breve racconto illustrato. E di nuovo va a affrontare un episodio del mito greco, in questo caso la storia di Galatea. Per chi non lo conoscesse, Galatea è una statua che è stata trasformata in donna. Per assecondare il desiderio del suo scultore, ovvero Pigmalione. Che in lei vede appunto la bellezza perfetta, non una vera e propria persona. E questa è una storia che va appunto a toccare quel tipo di relazione. Una relazione, diciamo, sentimentale, che non si basa sul rispetto reciproco, sull'affetto, sull'amore, ma soltanto sul possesso, sull'oggettificazione della donna, sul potere che esercita l'uomo su di essa, sul controllo che impone. È una storia breve, ma veramente molto intensa, che secondo me non soltanto i lettori di questa autrice ameranno, ma anche tutte quelle persone che magari sono affascinate dalla mitologia, dall'antica Grecia, eccetera. Per gli appassionati dei gialli, invece, un titolo che personalmente consiglio è Regina Rossa. Questo in realtà è il primo libro di una trilogia, se non sbaglio, ma può essere letto anche indipendentemente, perché il caso, diciamo, principale viene risolto all'interno di questo libro. Il protagonista indiscorsa di questa storia è una donna che non è né una poliziotta, né una criminologa o investigatrice, detective o altro. È semplicemente una donna dotata di una particolare intelligenza, che le permette di vedere il mondo, e in particolare la scena del crimine, sotto un aspetto totalmente diverso. Riesce a cogliere quei dettagli che a una prima analisi potrebbero sembrare inutili. E proprio per questa sua particolare dote collabora con un'unità, diciamo, speciale e segreta della polizia dedicata a casi particolari, che riguardano il più delle volte delle persone anche in vista. In questa storia verrà affiancata da un poliziotto che è stato, diciamo, messo in punizione per aver fatto una cosa non proprio lecita, ovvero ha cercato di incastrare un criminale e è stato beccato e quindi per, diciamo, punizione, per cercare di redimersi, gli è stato affidato appunto l'incarico di affiancare questa donna che è molto particolare. Non voglio anticipare altro perché il gusto, secondo me, di leggere questo tipo di libro è appunto scoprire poco alla volta quello che succede. Se vi piacciono però i romanzi crime, già gli investigativi, secondo me, è da non perderselo. Volete regalare un manga a una persona ma non sapete che cosa potergli fare? Bene, io vi consiglio Randagi, una serie completa in quattro volumi disponibile anche in questo kufanetto di J-pop. Keigo Shinzo, in questa storia, ci racconta di una ragazza molto giovane sui 16 anni scappata di casa. O meglio, casa sua non è proprio l'ambiente più sicuro o in cui si sente a casa e amata. Per questo motivo decide di andarsene. Non ha però un posto dove andare per cui accetta di stare presso dei veri e propri sconosciuti in cambio, diciamo, del suo corpo. Finisce poi per lavorare in un centro massaggi che è una copertura per delle invece attività non legali che viene però smascherato da un detective che si occupa in particolare di crimini sui minori. Questo detective aveva una figlia che assomiglia tantissimo alla nostra protagonista. Purtroppo non c'è più per un incidente, è morta e questo detective rivede nella giovane ragazza appunto la figlia e ha anche un'occasione per poter salvarla, cosa che non ha potuto fare invece con sua figlia. Quindi la prende, diciamo, particolarmente a cuore. È una storia che parla di persone, diciamo, non ben inserite nella società che si sentono escluse o emarginate, che si sentono dei randagi. È una storia molto intensa che come avrete potuto immaginare dalle premesse va a toccare anche dei temi particolarmente sensibili che hanno a che fare anche con i minori. Può sembrare uno scenario assurdo il fatto che una ragazza così giovane vada via di casa e si ritrovi a passare da uno sconosciuto all'altro in realtà è purtroppo una vera e propria realtà in Giappone e temo non solo. È una storia che io in realtà consiglierei veramente a chiunque, però in particolare se state cercando magari una serie breve da regalare, come vi dicevo, è disponibile anche il cofanetto, questo è perfetto. Altra storia molto intensa da regalare a chi apprezza particolarmente le storie quotidiane, commoventi, intense e non dimenticare i fiori di Kawamura Genki, autore che io vi ho già consigliato in passato con Se i gatti scomparissero dal mondo. In questo caso, di nuovo, si parla molto dell'importanza delle piccole cose, della vita quotidiana e soprattutto anche della famiglia perché qui vediamo un uomo che sta per diventare padre per la prima volta e quindi vive un insieme di emozioni particolari ma anche di paure e di insicurezze proprio perché è un'esperienza comunque che ti segna e che non può non spaventarti. Allo stesso tempo però la madre di quest'uomo inizia a dimenticarsi piccole cose, il gas acceso, non ricorda dove è casa sua, inizia a dimenticarsi i nomi, ha una serie di comportamenti che inizialmente infastidiscono l'uomo e che lo portano anche a provare vergogna nei confronti della madre che si scoprirà avere in realtà i primi sintomi dell'Alzheimer. È una storia come vi dicevo intensa e commovente per questo rapporto particolare ma decisamente sincero a volte in maniera anche brutale fra padre e fra scusate figlio e madre e che affronta il tema della famiglia sotto una prospettiva diciamo un tantino diversa. Amanti del Giappone a rapporto o se dovete fare un regalo a qualcuno che è affascinato soprattutto dall'aspetto più tradizionale antico del Giappone che ve lo dico a fare queste due meraviglie Ippocampo sono un regalo più che perfetto. Sono storie di fantasmi del Giappone e spiriti e creature del Giappone li includo assieme perché entrambi sono delle raccolte di storie di Lafcadio che riguardano la mitologia racconti popolari insomma legati appunto alla tradizione del Giappone illustrati da Benjamin Lacombe le edizioni sono veramente bellissime sono anche illustrate se vi faccio vedere magari qualche pagina veramente una chicca per chi appunto ama il Giappone ne è affascinato nell'aspetto anche più tradizionale ecco alla fine poi di ogni volume ci sono dei piccoli giochi e l'ho trovata una cosa molto molto simpatica altra miniserie manga che mi sento di consigliare non soltanto per chi apprezza il fumetto ma in generale perché è alla ricerca di una storia un po' cupa ma allo stesso tempo tenera è Curo di Somato in questo caso ci troviamo di fronte a tre volumi la protagonista è una bambina che è rimasta orfana e vive in un mondo molto particolare popolato da dimostri che però non sono visibili all'occhio umano possono essere visti soltanto se gli umani hanno fatto un particolare vaccino siccome questa bambina ha perso i genitori molto presto proprio nel periodo in cui doveva fare questo vaccino poi non c'è stata più occasione per cui lei è ignara dei pericoli che corre fuori da casa sua non è però completamente sola perché a tenerle compagnia c'è il suo gatto nero Curo per l'appunto anche se ha iniziato a comportarsi in maniera un po' strana questo gatto perché in effetti non è un vero e proprio gatto è un fumetto che inizialmente può sembrare semplice quotidiano una storia abbastanza anche simpatica se così vogliamo dire perché riguarda le avventure di questa bambina che si ritrova da sola in un mondo abbastanza bizzarro assieme al suo gatto quindi può sembrare appunto molto molto carino coccoloso anche nei disegni c'è poi un tocco un po' gotico nei vestiti nelle ambientazioni in realtà è una storia che va ad approfondire non soltanto quel legame speciale che si può instaurare anche fra persona e animale ma in generale anche come possiamo reagire in maniera diversa di fronte ad eventi traumatici a perdite importanti come viene elaborato il lutto e la perdita probabilmente ero rimasta soltanto io a non aver letto questo titolo però finalmente l'ho fatto me ne sono innamorata quindi mi sento di consigliarvelo La Porta di Sabo Magda probabilmente il libro più famoso almeno qua in Italia di questa scrittrice ungherese qui ci troviamo di fronte a due donne molto diverse la padrona di casa una donna che lavora come scrittrice che ha bisogno di un aiuto appunto in casa per questo assume una donna che le faccia non soltanto da donna delle pulizie ma un po' da diciamo governante quest'ultima è una signora anziana che ha proprio il suo metodo di organizzare di fare le cose che può sembrare molto bizzarro per chi appunto non conosce il soggetto inoltre è abbastanza riservata riguardo alla sua vita i suoi impegni le cose vanno fatte come dice lei quando vuole lei in sostanza seguiamo il rapporto fra queste due donne per un arco temporale molto ampio quindi le vediamo in diversi episodi delle loro vite questo è un rapporto che va molto oltre il semplice rapporto diciamo datore di lavoro e dipendente l'autrice è stata in grado di affrontare l'umanità di queste due donne in maniera molto diretta senza filtri nel bene e nel male è la storia perfetta perché è la ricerca di una storia appunto quotidiana non esattamente ambientata ai giorni nostri perché è ambientata negli anni Ottanta in Ungheria quindi c'è anche un contesto diciamo sociale e politico molto diverso da quello attuale però chi è magari solito leggere narrativa non di genere secondo me potrebbe apprezzare particolarmente questa storia Jun di Keum Suk Jendrik Kim è la storia vera di Jun che noi vediamo all'inizio come un bambino e poco a poco lo vediamo crescere diventare grande che cosa ha di tanto speciale questo bambino beh è un po' diverso da noi ma come tutti siamo diversi per una cosa o per l'altra da tutti gli altri no Jun è autistico e l'autrice ha deciso di raccontare la sua vera storia attraverso episodi di vita quotidiana che hanno dovuto affrontare lui e la sua famiglia in un contesto come quello della Corea l'autrice in particolare vuole sottolineare con quest'opera i limiti della società come certe famiglie siano totalmente invisibili agli occhi degli altri a livello proprio di aiuto anche non soltanto sostegno magari psicologico ma anche finanziario vengono sottolineati anche i limiti delle altre persone gli sguardi terribili secondo me delle altre famiglie degli insegnanti eccetera nei confronti appunto di questo bambino fumetto secondo me che tutti dovrebbero leggere perché è una storia secondo me molto molto importante che sottolinea degli aspetti che noi diamo molto spesso per scontati ma in particolare lo consiglierei a chi ha la ricerca di una storia vera o a chi ha amato ad esempio le malerbe della stessa autrice per chi invece ha la ricerca di un libro di poesie da regalare uno dei migliori letti quest'anno anzi il migliore letto quest'anno è stato Homebody di Rupi Kaur io ho iniziato ad apprezzare questa autrice in particolare non con Milk and Honey che non mi era sembrato tra virgolette nulla di speciale ma con il sole dei suoi fiori è un'autrice che parla molto di attualità di femminismo di accettazione amore verso se stessi e in questo titolo in particolare affronta anche dei temi che forse abbiamo sentito maggiormente negli ultimi due anni quali la solitudine e la produttività le aspettative della società al nostro sentirci inadeguati verso tali aspettative penso che attraverso le sue parole tantissime persone possano rivedersi e cercare anche solo un po' di di conforto per chi invece è interessato alle storie vere e vorrebbe saperne un po' di più diciamo sul fumetto consiglierei l'autobiografia di Keiko Takemiglia ovvero il suo nome era Gilbert in questo libro l'autrice racconta un po' come si è avvicinata al mondo del fumetto i suoi esordi le dinamiche con i colleghi la redazione gli editor eccetera eccetera e la parte secondo me più interessante al di là della vita stessa dell'autrice è appunto lo sguardo sul fumetto come era in quegli anni come si comportavano soprattutto le autrici donne in questo settore le differenze con gli uomini i ritmi di lavoro e altre varie dinamiche questa autrice assieme ad altre come ad esempio Moto Agio hanno completamente rivoluzionato il fumetto per ragazze perché diciamo che prima la rappresentazione femminile questo tipo di fumetto era scritto e disegnato praticamente soltanto da uomini quindi potete capire bene che la rappresentazione femminile era abbastanza limitata e spesso era troppo legata a determinati stereotipi con questo gruppo di autrici invece tantissime cose cambiano quindi secondo me è molto interessante per chi è appassionato o incuriosito in particolare dal manga dal fumetto per chi adora ama questa autrice e per chi appunto è la ricerca di una storia vera perché è l'autrice stessa che racconta appunto i suoi primi passi in questo mondo e a proposito di manga un altro volume che mi sento di consigliarvi è fatti forza Nakamura sorrido perché ancora oggi mi viene da sorridere pensando questa storia perché è molto divertente e tenera allo stesso tempo vede per protagonista un ragazzo innamorato di un suo compagno di classe con cui però non ha mai spiccicato parola quindi è proprio tutto nella sua testa veramente è una cotta e quindi noi lo seguiamo in vari episodi della sua vita scolastica mentre tenta di avvicinarsi e di creare diciamo un pretesto per rivolgere la parola a questa sua cotta e iniziare ad avere una sorta di amicizia con lui è un volume unico perché è alla ricerca di qualcosa di leggero di divertente di rinfrescante diciamo così e per chi magari è incuriosito dal mondo boys love ma non sarà assente di iniziare con un titolo propriamente diciamo yaoi questa è una versione boys love veramente super mega hyper soft che anche se non vi interessa quel tipo di fumetto potete apprezzare e poi ripeto è un volume unico meraviglioso una storia invece dai toni completamente diversi da regalare o farsi regalare se si è alla ricerca di una storia dura cruda che tratti di amicizia ma anche di bullismo è heaven di Mieko Kawakami i protagonisti sono due ragazzini se non sbaglio liceali che per motivi diversi vengono presi di mira dai compagni di classe lui è strabico quindi viene chiamato in ogni modo dai compagni di classe viene deriso viene malmenato ogni giorno è veramente un inferno per lui a scuola mentre la ragazza ha un aspetto diciamo trasandato e per questo viene presa di mira dalle compagne di classe i due iniziano a sentirsi inizialmente per lettera lei scrive a questo a questo ragazzo a scuola praticamente non si sentono mai se non attraverso queste lettere iniziano poi a vedersi fuori da scuola ma non parlano mai di quello che subiscono dai compagni di classe parlano di tutt'altro inizia quindi una sorta di di amicizia fra i due un'amicizia che probabilmente gli aiuta a tenersi aggrappati alla vita alla quotidianità nonostante le grandi sofferenze che devono vivere a scuola è una storia come vi dicevo che sa essere veramente un fortissimo pugno nello stomaco quindi chi è particolarmente sensibile a questi temi probabilmente non si sentirà magari a suo agio quindi non è una lettura magari per tutti ma è una lettura che io straconsiglio perché di storie di bullismo magari ce ne sono tante ma mai abbastanza ed è una lettura che secondo me aiuta tanto a riflettere non dico che ho tenuto per ultimo questo titolo perché mi ho preferito ma diciamo che non volevo si notasse il buco in libreria per il mega cofanetto delle rose di Versailles Lady Oscar di Ryoko Ikeda allora siamo tutti d'accordo che questo cofanetto è il regalo perfetto cioè proprio per eccellenza che cosa c'è di più bello di questo cofanetto pochissime altre cose al mondo immagino chi non è cresciuto amando il cartone di Lady Oscar magari non comprendendo al 100% quello che stava vedendo quindi è almeno per me è stato molto bello riscoprire la storia a distanza di qualche anno e soprattutto dall'inizio alla fine vedendolo con uno sguardo diciamo un po' più maturo e consapevole è la storia poi perfetta per chi ama le storie a fumetti storiche è una storia che si concentra sui giochi intrighi di potere di politica la forte differenza fra classi sociali il malcontento del popolo quello che viene fatto ma soprattutto non fatto da parte dei reali da chi vive una situazione di estremo agio c'è veramente una differenza abissale fra nobiltà e plebe e in generale per chi anche cerca una storia che faccia soffrire perché sappiamo tutti com'è andato quel periodo storico vero? quindi il maina gioia è dietro l'angolo però veramente è diventato uno dei miei fumetti preferiti di sempre io non avevo mai letto il manga me ne sono completamente innamorata e penso che tutti dovrebbero leggerlo ripeto poi è un bellissimo regalo anche esteticamente c'è un cofanetto meraviglioso questi erano i libri fumetti che ci tenevo a consigliarvi per aiutarvi un po' nella scelta dei regali e soprattutto degli autoregali per questo Natale nei commenti vi aspetto poi con la vostra personalissima wishlist magari indicatemi almeno tre titoli che vorreste trovare quest'anno sotto l'albero sono veramente molto molto curiosa poi presto arriverà anche la mia personale wishlist quindi occhi aperti io spero di avervi tenuto un po' di compagnia e ci vediamo alla prossima ciao